Sono state molte le domande retoriche poste dal Papa e rappresentanti della comunità dell'Università Cattolica portoghese in occasione del cinquantesimo della sua fondazione, ricevuti in udienza in Vaticano. Francesco, parlando in spagnolo, si è soffermato sul fatto che la laurea non deve essere un sinonimo di maggiore denaro e maggiore prestigio, ma una responsabilità davanti ai problemi di oggi, alle necessità dei poveri, alla cura dell'ambiente. Non bastano i dibatti di evidenziato, è importante concretizzare. Sulla missione cattolica dell'Università il Papa ha rimarcato che è un elemento che esalta al massimo l'Ateneo perché valorizza le conquiste della scienza e della tecnologia nella prospettiva della totalità della persona. Citando Giovanni Paolo II, ha aggiunto che l'Università cerca la verità mediante la ricerca, la conservazione e la comunicazione del sapere per il bene della società. Un insegnante cattolico, ha spiegato il Papa, parla non tanto come un rappresentante di una fede, ma soprattutto come testimone della validità di una ragione etica.